Ciao a tutti, io sono il Dilan Dogofilo, oggi abbiamo un album mensile uscito giusto l'altro giorno in dedicola. Stiamo parlando di Il Calvario, il numero 335 della serie Regolare. Copertina come al solito di Angelo Stano, che si differenzia dalle altre perché non notiamo dei pallini strani sulla camicia di Dilan Dog. Sapete quei pallini che Stano sta utilizzando in questo periodo sulle copertine, qui invece la giacca è a tinta unita come sulle vecchie copertine diciamo. Si vede che è una copertina che aveva fatto magari prima ma è stata proposta solo adesso. Una storia davvero molto 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 triste perché segue un po' le orme di Mater Morbis. Mater Morbis, ma questa storia mi ha fatto quasi piangere a dire la verità. Mentre Mater Morbis non mi aveva provocato alcun tipo di emozione, cioè si era una storia molto molto intensa ma sono rimasto diciamo non mi ha fatto né caldo né freddo. Questa storia mi ha davvero colpito molto. Parlerò proprio nel dettaglio, farò proprio una recensione completa di questa storia. Quindi visto che è uscito da pochi giorni, se non l'avete ancora letto non guardate questa recensione perché spoilerò in una maniera assurda. Proprio perché voglio recensire ogni singolo dettaglio di questa storia, far capire ogni singolo aspetto di questa storia. Invece se l'avete già letto guardate pure senza problemi questa recensione. Io vi ho avvertito. Bene, un testo di Gualdoni che si riconferma uno dei miei scrittori preferiti. Ha davvero un modo di raccontare ottimo. Davvero le sue storie alcune diciamo non mi sono piaciute troppo, erano un po' banali. Ma quando si dà da fare sforna davvero delle storie all'altezza quasi di sclavi. Affiancate da dei meravigliosi disegni di Martinello. Secondo me dovrebbero tenerlo per ogni singolo album mensile. Dovrebbero fargli disegnare a lui ogni singolo album mensile. Proprio disegni eccellenti. Però partiamo prima dalla storia per dopo entrare nel dettaglio e poi parlare dei disegni. La storia, una variazione sul tema. Dylan in questa storia ha un figlio. Sì lo so è scioccante. Io pensavo che questo figlio fosse frutto di una relazione tra lui e un'altra donna. Adesso c'ha questa fidanzata che dopo però si lasceranno. Un classico. Però questo figlio che si chiama Johnny. L'ha chiamato Johnny in onore di Johnny Freak. Sapete la storia Johnny Freak androre a recinsere anche quella. Visto che era molto legata a questo nome e a quel Johnny. A quel Johnny ha voluto chiamare il suo figlio vero Johnny. Diciamo che questo bambino non è frutto appunto di un... Non è nato per sbaglio come si può dire da... Sapete che Dylan va sempre a letto con le sue clienti. Ma in questo caso appunto non è nato per sbaglio. Praticamente c'è una coppia. Una coppia di genitori che è un po' difficile da spiegare. Tento di spiegarmi nel migliore dei modi. Vediamo se trovo la famiglia che era da qualche parte. Vabbè comunque c'è appunto questa coppia qui. Solito, moglie, normale, normalissima e marito. Che non hanno potuto avere figli. Ovvero hanno avuto questo figlio. Questo qui è il loro figlio. Solo che questo loro figlio gli ha fatto vivere un calvario. Perché questo figlio ha davvero una malattia davvero tanto grave. All'inizio della storia sembra che prenda una banale influenza. Invece nel corso della storia si capisce che è proprio una malattia molto molto seria. Infettiva e porta il figlio alla morte se non ricordo male. Vediamo un po'. Perché adesso l'ho letta ieri ma Epic Fail non mi ricordo più. Sì, infatti il figlio muore. Vediamo un po'. Sì, mi sembra che muore alla fine. Vediamo un po' perché sto andando... Sì, sì, muore alla fine purtroppo. Questa coppia ha avuto questo figlio. Solo che dopo... Vedete questo qui è il padre del... Il vero padre del bambino. Questa volta non fanno i patti con la morte ma fanno un patto con la sorella della morte che sarebbe la vita. Che è la seconda volta, mi sembra, la seconda o terza volta che compare negli albi di Dilan Dog. Non si vede molto spesso la morte. Appare sempre. Appare anche in copertina. Ma la vita appare molto molto raramente negli albi di Dilan Dog. In questo caso fanno un patto con la vita. Qual è il patto? Siccome la moglie sta vivendo davvero un periodo bruttissimo, la vita decide di prendere questo incubo, prendere questo figlio che appunto per loro è un incubo, un figlio che sta male. Prendono davvero questa tragedia e la vanno a... La va, la vita la va a dare a Dilan Dog. Quindi la vita prende questo figlio e lo va a dare a Dilan Dog. Quindi Dilan sarà costretto lui, nel senso lui pensa che è suo figlio veramente. È davvero strana la storia perché all'inizio... Cioè non ci spiega come Dilan si è entrato in contatto con questo suo figlio. Cioè non ci spiega quando è nato, da chi è nato. Semplicemente Dilan se lo ritrova in casa all'inizio della storia vediamo che è come se si conoscessero da una vita. È davvero molto strana questa atmosfera. Diciamo che appunto all'inizio tutto bene, dopo Dilan subirà questo calvario perché subirà passo per passo questa bruttissima esperienza che ha suo figlio. Questa bruttissima malattia che ha suo figlio. Quindi la vita per sollevare dalla disperazione la sua vera famiglia decide di affidare questo bambino a Dilan Dog. Perché come detto dalla vita, la vita ha detto a Dilan Dog. Siccome te c'è già tanti incubi, uno in più, uno in meno, non farà differenza. Invece questo incubo a Dilan fa differenza. Una storia che mi ha fatto quasi piangere perché ci sono davvero dei momenti di emozione intensa perché anche se non sono un padre comunque si capisce perfettamente quello che sta vivendo Dilan in questa storia. Combatterà anche con diversi incubi che ha affrontato precedentemente sotto forma di illusioni. Diciamo davvero molto molto toccante come storia. Dilan che si ritrova a dare consensi per appunto, vedete qui la disperazione del figlio. Davvero sia disegni che sembrano quasi del, anzi sono delle foto, fotografie in bianco e nero, sono davvero eccellenti. Anche se Dilan ha una faccia un po' strana però ognuno ha il suo stile di disegno. Ma nel complesso, già qui dalle prime pagine, si vede già il maggiolone disegnato così da proprio il senso di maggiolone d'epoca. È davvero una cosa spettacolare. Dicevo che è una storia davvero che va oltre quello che è la relazione tra un padre e un figlio. Dilan che in questa storia fa venire fuori un lato di sé non arrabbiato ma nemmeno disperato. Davvero un lato mai visto di Dilan Dogg. Davvero una forte, davvero delle emozioni davvero forti con Block sempre presente verso la fine della storia. Che a sua volta si fa vedere come padre di Dilan. Questa vignetta qui mi ha lasciato senza parole. Perché dalle loro espressioni si capisce proprio la disperazione di Dilan ma Block che comunque lo guarda come un padre. Davvero anche Graucio fa tanto in questa storia. Sono davvero, si è creato davvero un alone di sentimenti davvero molto molto ampio che su altre storie di Dilan Dogg non risalta. Proprio una storia piena di, piena, sembra quasi viva questa storia. Davvero una cosa molto particolare da leggere assolutamente. Consigliato l'acquisto assolutamente sì, anche se questo albo costasse 100 euro lo comprerai lo stesso. No vabbè, 100 euro mi sembra esagerato. Però comunque vale davvero i soldi che spendiamo. Anche perché, come vi ho detto l'altra volta, è aumentato il prezzo di copertina. Siamo arrivati a 3 ore 20 addirittura. Ma comunque, vabbè, davvero una storia intensa. Forse la parola giusta è intensa. Che spingerà a Dilan Dogg, come è successo molte altre volte, al suicidio. Che dopo alla fine non si suicida. Ma lo fa in un modo diverso. Mentre che le altre volte è scontato che alla fine Dilan non si ammazza. In questa storia sembra che Dilan si dovrebbe ammazzare davvero. Proprio è una trasmissione delle emozioni che passa dalla carta a noi in una maniera totalmente diversa a quelle precedentemente viste. Non so come spiegarvelo. Poi a ogni persona fa il suo effetto. A me ha fatto questo effetto. Non mi veniva da piangere quando Dilan capiva che il figlio stava per morire. Ma prima. Prima quando Dilan portava il figlio all'ospedale avanti e indietro. Perché è da qui che si sottolinea un nuovo Dilan. Un Dilan padre che non si è mai visto. Davvero è molto molto non so come dire oltre che particolare molto toccante molto assolutamente da leggere. Non so come abbia fatto Gualdoni a scrivere un capolavoro del genere ma l'ha fatto. Complimenti. I disegni. Ha scelto un disegnatore eccellente anche perché qui all'ospedale con tutti questi tubi le pieghe sul letto i materassi i cuscini. Sono proprio ricreate benissimo queste pieghe. Fate davvero bene. Le ombreggiature sono una cosa eccezionale a dir poco. Dilan ha davvero delle espressioni anche se ha dei lineamenti della faccia che non mi piacciono troppo. Ma ha davvero delle espressioni ottime. Io preferisco il Dilan Dog magari visto da Corrado Roy. Cioè dipende. Lì è la fisionomia del volto che ognuno la interpreta come vuole. Si parte dal personaggio di Rupert Everett per dopo ogni disegnatore lo interpreta un po' a modo suo. Dal punto di vista fisico il personaggio. Questa coppia che ha dato il figlio attraverso la vita a Dilan Dog. La moglie impazzisce e appunto addirittura ammazza il marito. Ma qui ci sono appunto del... Come... Anzi. Questi disegni hanno superato perfino la maestria di alcuni Color Fest. Sapete che nei Color Fest tendo molto a dire che sono più degli Art Book. Ma qui davvero con questo bianco e nero, con questa precisione, con questi tratteggi, lineamenti molto molto morbidi, ma allo stesso tempo coincisi, forniscono al disegno davvero una nuova dimensione. Davvero una cosa eccezionale mai vista prima. E ne ho letti davvero tanti di Albi di Dilan Dog, ma questo qui si contraddistingue in maniera molto significativa. E Dilan addirittura va in chiesa. Non ho mai visto Dilan Dog andare in chiesa e pregare. È davvero una cosa... Davvero... Non ho parole perché non è mai successo prima, quindi non saprei bene confrontarla. Non saprei dare confronti con altre storie perché è proprio una storia a sé. Non ce ne sono mai state di simile a questa. La morte gioca sempre un ruolo in questa storia. La vita in questa storia è molto presente. Forse è questo che cambia. Perché di solito siamo abituati a un Dilan Dog che fa sempre patti con la morte. Mentre in questa storia Dilan che fa patti con la vita. E la vita, attenzione, rispetto alla morte è ancora peggio. Perché è ancora più crudele la vita che la morte. Infatti, alla fine, quando il bambino morirà, ecco qui la vita che non è neanche troppo... La morte è rappresentata in maniera medievale, solita, con la falce. La vita invece è rappresentata come un uomo abbastanza anziano, senza capelli, bianca. È proprio strana che dal punto di vista del personaggio mi si è rispettato qualcosa di diverso. Invece anche la vita è un personaggio un po' macabro. E bisogna dire che appunto la frase che mi ha lasciato di stucco, dal quale vi invito a fare una riflessione, su cui io ho riflesso molto, è le ultime vignette della storia che dicono la vita, la vita che dice a Dilan Dog, la morte è mia sorella che solleva gli uomini dalle loro terrene sofferenze. Quindi, fin qui ci siamo. Appunto, la morte dà un po' di conciliazione. Io invece, dice la vita, gravo su di loro, trattenendoli in luoghi di dolore, costringendoli a vivere nonostante tutto, senza un attimo di tregua, perché è la vita e non la morte che non conosce pietà. Davvero, è una frase su cui si potrebbe ragionare all'inverosimile, si potrebbe fare un poema, si potrebbe addirittura scrivere un libro. Non so da dove Gualdoni abbia tirato fuori queste frasi, ma è davvero uno spunto riflessivo non indifferente. Perché, davvero, la vita è quasi peggio della morte, nel senso, la morte ti concilia, ti toglie via le tue sofferenze, mentre è la vita che, appunto, tenendoti in vita, soprattutto qui riferito alla gente all'ospedale, la vita che tiene in vita tutti i pazienti, li fa entrare in questo incumo, in questa agonia. Quindi è quasi peggio la vita che la morte, in un certo senso. Però, anche qui c'è tutto da interpretare, ognuno poi trae spunti personali differenti. C'è davvero tanto da imparare da questa storia, tanto da capire, davvero un Dylan Dogg che mi è piaciuto. Complimenti a tutti. Se si prosegue così, con queste storie nuove, sicuramente Dylan Dogg avrà un successo strepitoso. riuscirà ancora una volta a fare il, come si chiama, a far guadagnare tantissimo alle edicole. Speriamo che vadano avanti di questo passo, proponendo in Bonelli queste storie davvero diverse. Perché finalmente in questa storia ho visto, ho incontrato per la prima volta un Dylan Dogg diverso, che però, attenzione, è diverso ma non si stacca dal Dylan Dogg che era prima. È un Dylan Dogg diverso, nuovo, ma ci sta. Un Dylan Dogg che non estirpia le sue radici di quello che è, ma un'evoluzione del personaggio di Dylan Dogg che davvero mi è piaciuta. I disegni, come vi ho detto prima, davvero una cosa strabiliante. Quindi, un voto a questa storia, cosa darei? Un dieci. Anche perché è una di quelle poche storie che mi ha suscitato delle emozioni davvero forti. Alcune storie di Dylan Dogg, soprattutto quelle vecchie, magari mi facevano paura. Proprio delle storie che mi fanno paura. come Il Confine, che non ho ancora letto perché c'è una scena che mi fa paura e mi cago sotto e quindi non ho ancora letto la storia Il Confine, mi sono fermato. Ma quello per un motivo di paura. Invece questa è una storia davvero molto sentimentale, ma proprio ti prende dentro. Non so come dire, va letta, ognuno la interpreta a modo suo. Questa era la mia visione di questo Dylan Dogg mensile, una recensione che è durata davvero tanto, infatti sono già 16 minuti che sto registrando. Ma per farvi capire che è un Dylan Dogg questo che ha lasciato il segno. Un must have per tutti gli amanti di Dylan Dogg. Bene, bravi. Un bravo a Gualdoni e anche a Martinello perché davvero insieme sono una coppia vincente. Spero di rivederli presto insieme. Spero che Dylan Dogg e quindi Labonelli in generale, chi si occupa di Dylan Dogg, tutti i collaboratori, tutti i disegnatori, tutto quello che c'è dietro, contribuiscano a produrre altri albi di questo calibro. Davvero, voto 10 e lode. Bene, la recensione finalmente è finita. Vi ho tenuto tanto, ma c'erano davvero tante cose da dire. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, condividilo. E noi ci vediamo alla prossima recensione dedicata al mondo dell'indagatore dell'incubo.